www.pilm.info Quelle meravigliose creature che vivono con molti di noi. I nostri cani, gatti, uccelli e pesci. Andremo a vedere come i distributori li trattano e li alimentano. Io invece darò un'occhiata al comportamento degli uomini e in particolare alla fusione tra Auld e Deleuze. È passato un anno dalla fusione. Come procede? Ma iniziamo con le ultimissime del settore. Ecco a voi Veronica Carvaio. Judith, il più grande distributore del Regno Unito, ha annunciato che le sue vendite di marchio del distributore sono in rapida crescita. Tesco riferisce che le vendite del suo marchio del distributore hanno registrato una crescita del 4,6% rispetto all'anno precedente e ora rappresentano quasi il 50% delle vendite. La crescita è stata aiutata da un forte sviluppo di nuovi prodotti. Tesco ha lanciato 807 nuove linee nella prima metà di questo anno. In Francia, rapporti riferisce che Amazon starebbe bussando alla porta dei revenditori dei generi alimentari per stabilire accordi di distribuzione o fare un'acquisizione nel paese. L'informazione c'è che Amazon ha contattato Leclerc, Casino, Intermarché e System U. Michel-Edouard Leclerc, il capo di Leclerc, ha confermato di aver discusso con Amazon su un accordo di logistica. In altre notizie online, Auchan sta lanciando un servizio di click and collect in Francia con l'installazione di 250 armi dieti a temperatura controllata in cui i clienti possano recogliere gli loro ordini online. Nei Paesi Bassi, gli clienti di Albert Einstein possano ora gestire le loro liste d'acquisto con l'aiuto di Siri, il sistema di riconoscimento vocal su iPhone e iPad. Secondo la Società di ricerca del mercato IRI, c'è dato un forte aumento del numero di persone che acquistano prodotti vegetariani. IRI ha scoperto che il 39% dei consumatori europei acquista recebili vegetariani, un incremento del 26% negli ultimi tre anni. I consumatori spagnoli hanno maggiore probabilità di acquistare alimenti vegetariani e il 44% dicono di includere prodotti senza carne nei loro acquisti. In Italia, Carrefour presenta una gamma di prodotti sostenibili con il marchio Filiera Qualità. I prodotti sono provenienti da fornitori che operano un'agricoltura sostenibile ed etica. Ciò implica la potressione delle specie in via di estensione e la biodiversità, un'agricoltura senza antibiotici e l'attenzione al benessere degli animali e la qualità dell'ambiente di lavoro del fornitore. I due principali rivenditori in Svizzera presentano prodotti per i bambini. Migros lancia una gamma di 27 alimenti biologici per i bambini sotto il marchio MiBeBe. Coop Suisse sta spandendo il suo marchio Natural Line per includere prodotti per il bagno e per la cura del corpo dei bambini. Il gruppo Reve ha dichiarato che prevede di aprire 250 negozi Reve e i bambini in Germania e altre 200 punti vendita all'estero. E questi sono il titolo del settore per questo mese. Grazie Veronica. Bene Judith, parlaci del mondo degli animali domestici. Allora Edgar, posso dirti che 80 milioni di famiglie europee possiedono almeno un animale domestico e che i gatti e i cani rappresentano l'80% del valore totale del mercato. Euromonitor stima che il mercato di questi animali in Europa occidentale valga 26 miliardi di euro e prevede che le vendite nei prossimi 5 anni in Europa crescano di un buon 7%. Per i distributori e i produttori, soprattutto per il marchio del distributore, il fattore trainante del mercato è la cosiddetta premiumization, ossia lo spostamento delle preferenze del mercato verso la fascia più alta. In altri termini si attribuisce maggiore importanza alla qualità e all'assortimento. Si tratta di qualcosa che il marchio del distributore ha realizzato molto bene nel corso degli ultimi 20 anni in tutti i generi di prodotti alimentari. È una tendenza che può assumere molte forme. Ma nel settore della cura degli animali domestici assistiamo a un'umanizzazione dei prodotti. Vale a dire che i padroni vogliono replicare il proprio stile di consumo e di vita quando comprano qualcosa per i propri animali. Se il padrone o la padrona sono vegetariani, allora cercheranno alimenti vegetariani anche per il proprio animale. Se pensano che i cereali o il glutine disturbino lo stomaco dei propri animali, allora li faranno mangiare con una dieta senza glutine. Nel caso in cui i consumatori preferiscano per essi stessi alimenti con ingredienti naturali, allora vorranno che anche i propri animali mangino cibi naturali. Anche per Natale comprano delle lussose cene di Natale speciali per animali domestici. Stanno comparendo nei negozi dei prodotti come giochi, abbigliamento, casette, tutine, letti, cuscini, corsi di formazione e borse da viaggio per animali. Non sorprende il fatto che molti padroni di animali siano pronti a pagare un prezzo più alto. Inoltre assistiamo sempre di più a un'offerta di prodotti segmentati in base all'età, alla razza e allo stile di vita degli animali. Poi c'è il cibo funzionale, quello ad elevato contenuto proteico e con pochi carboidrati per gli animali sterilizzati, che li tiene sani e in forma. Per gli animali sovrappeso abbiamo una dieta speciale per il dimagrimento. E ancora abbiamo il cibo per cani terapeutico e ipoallergenico, con il 100% di proteine a base di insetti come nuova fonte di proteine e animali. Ci sono anche le ossa da masticare, con le sorprendenti aggiunte di alghe o tè verde, che non solo puliscono i denti degli animali, ma danno anche un alito fresco. L'elenco delle novità è infinito. Lo spostamento verso la fascia premium degli ingredienti determina anche una domanda di trasparenza. I padroni degli animali vogliono sapere esattamente cosa c'è nel cibo e da dove viene. Gli elenchi degli ingredienti nelle confezioni del cibo per animali sono esaurienti e permettono di tracciare la carne e le verdure fino alla regione di produzione e di coltivazione. Anche le confezioni del cibo per animali sono migliorate, per esempio con sistemi di chiusura comodi come le piccole cerniere. Sono state introdotte anche le porzioni piccole di dimensioni controllate. Circa il 50% delle vendite dei prodotti per la cura degli animali domestici passa attraverso il canale dei genere alimentari al dettaglio e il 30% attraverso i negozi specializzati per animali. Solo il 3% viene scambiato tramite internet. La quota del marchio del distributore è maggiore del 60% nei principali paesi europei. Per il marchio del distributore è un'altra lezione che dimostra come la qualità, la creatività e l'assortimento siano degli elementi chiave per la soddisfazione dei consumatori, anche se sono cani. Grazie Judith. I cibi per cani quanto sono effettivamente di fascia premium? Abbiamo chiesto allo chef Barry di dare un'occhiata a un campione di prodotti del marchio del distributore per gli animali domestici e dirci il suo parere professionale. Come chef insegnante sono stato coinvolto in centinaia di ricette, ma francamente non mi è mai stato chiesto di giudicare cibo per cani, gatti, uccelli o pesci. Pertanto vengo a questo appuntamento con enorme curiosità. La maggior parte dei proprietari di animali domestici acquisti i loro alimenti nel supermercato. Ecco alcuni dei prodotti che lei può trovare. A Zooplus abbiamo trovato questo cibo biologico ed equilibrato per cani. Naturalmente ero davvero curioso di sapere cosa avrebbe pensato il nostro cane. Dopo aver odorato e controllato il cibo come al solito, lui ha iniziato a mangiare il suo pasto entusiasticamente e l'ha finito in fretta. Quindi per lui è un grande sì. È una bella miscela di pollo biologico succoso, carote e riso pieno di valore nutrizionale. È un pasto completo per il suo cane. Contiene importanti vitamine, minerali e micronutrienti. Tutto ciò di cui un cane ha bisogno per una dieta sana, naturale e organica. Le materie prime di alta qualità vengono coltivate e prodotte a livello regionale. Il prodotto viene trasformato in Germania. Questo prodotto è divertente. A Zooplus abbiamo trovato questo calendario dell'avvento solo per i gatti. Seriamente, un calendario dell'avvento per il suo gatto. Ora i giorni prima di Natale saranno così emozionanti e divertenti per il suo gatto come per lei. Dietro ogni data o finestra, il suo gatto troverà snack premium in quattro sapori deliziosi. Fegato, anatra, tonno o manzo, composti al 100% di pura carne o pesce liofilizzati. Può il suo gatto aprire le finestre? Provi a casa sua e mi invii le foto. La settimana scorsa ho addestrato il mio cane per darmi il 5. Ho usato i premi naturali Albert Heijn a forma di osso. I premi sono ottimi per addestrare il suo cane in modo responsabile. Inoltre contengono Omega 3, che rende lucida e sale la pelliccia del suo cane. Contengono anche vitamina B e tapioca, ricca fonte di ferro. Questi premi sono naturali al 100%. Carne in gelatina per i gatti. Questo prodotto Monoprix è realizzato con ingredienti di qualità e approvato dai veterinari. Viene fornito in un pacchetto con quattro diverse combinazioni gourmet. Tonno e baccalà con fagiolini. Salmone e nasello con carote. Nasello e sardina con piselli e gamberi con platesse e carote. Sembra un pasto delizioso per gli esseri umani, vero? Ogni sacchetto contiene un servizio per un facile controllo delle porzioni. Edgar, spero che lei abbia imparato tanto quanto me. Non posso promettere di aggiungere uno di questi prodotti a un menù per ospiti, ma se portano i loro animali, sarò pronto. Grazie Barry. Tornando al comportamento dell'uomo, Aold e Deleys hanno colto di sorpresa i loro concorrenti a luglio 2016, quando hanno deciso la fusione delle due società. Da allora tutti le stanno tenendo sotto osservazione, per vedere se il processo di fusione procede bene. Il distributore olandese ha dichiarato di aver pagato una somma di 28 miliardi di dollari per il suo rivale belga, creando un'aggregazione di imprese che gestisce oltre 6.500 negozi in tutto il mondo e che ogni settimana serve oltre 50 milioni di clienti in Europa e negli Stati Uniti. La società ha lanciato la strategia Better Together, meglio insieme, focalizzata sulle tendenze dei consumatori, come l'attenzione al limite di spesa, la praticità, la salute, il benessere e la personalizzazione. La società ha inoltre dichiarato che il processo di integrazione prosegue bene e che si trova sulla direzione giusta per realizzare nel 2019 l'obiettivo di sinergia stabilito. Nella sua prima relazione sugli utili, un anno dopo la sua fusione, Harold Deleuze ha pubblicato dei risultati che mostrano un miglioramento delle vendite e delle sinergie di fusione che, a loro volta, hanno determinato un aumento dei margini. Gli Stati Uniti generano circa i due terzi dei ricavi totali del gruppo. La strategia della società negli Stati Uniti è imperniata sullo sviluppo dei grandi marchi locali, sfruttando al contempo le economie di scala. La società sta creando un'organizzazione che mette il marchio in primo piano, assicurandosi di rispondere prontamente sia alle esigenze dei clienti che alle mosse dei concorrenti. Per migliorare la propria posizione competitiva, la società ha attuato delle riduzioni di prezzo su 800 prodotti, la maggior parte dei quali hanno il marchio del distributore. Si tratta di una mossa importante soprattutto nel mercato americano, dal momento che gli stessi hard discount di generi alimentari che hanno scosso l'Europa stanno accelerando la propria crescita negli Stati Uniti. Lidl prevede di aprire 100 negozi entro la fine dell'estate 2018. E Aldi ha annunciato di aprire altri 900 negozi, oltre ai 1.600 già aperti. Aold Deleys afferma chiaramente di non sottostimare la potenziale minaccia e, oltre a perfezionare la propria strategia di marchio, la società ha deciso di rendere più incisivi tutti i suoi prezzi, ottimizzare le gamme di prodotto, modernizzare la propria rete di negozi e implementare più velocemente il proprio servizio online di consegna a domicilio, P-Pod. Aold Deleys sostiene di essere ben predisposta per fare fronte anche alla sfida di Amazon. Il mega distributore online ha acquistato Whole Foods Markets e ha stupito molti distributori. Aold ritiene che una strategia di successo su tutti i canali, che comprende una rete di oltre 2.000 negozi tradizionali e P-Pod alla guida dell'attività online, avrà un esito positivo. Inoltre, il marchio olandese Itos di Aold, una linea di salute e bellezza, sta espandendo la sua presenza in tutta la più ampia rete di Aold Deleys. I prodotti saranno offerti nei supermercati di Belgio, Romania, Grecia e Repubblica Ceca. I prodotti Itos sono già disponibili in America attraverso Stop & Shop, Jant, Food Lion, Hannaford e P-Pod. L'esportazione della gamma del marchio del distributore Itos indica come Aold Deleys cerchi di condividere le prassi ottimali in tutta l'azienda nell'ambito della sua strategia Better Together. Avrà successo Better Together. Aold Deleys ha da poco annunciato una serie di cambiamenti ai vertici e anche dei progetti per dare nuova forma e rendere più moderni oltre 120 negozi in Belgio. La fusione sembra aiutare la società a riflettere sui cambiamenti in corso nel mercato della distribuzione, ma è impossibile prevedere se funzionerà effettivamente. Grazie, Edgar. Le fusioni sono una delle vie verso il successo nei settori della distribuzione e della produzione e le start-up hanno dimostrato di essere un'altra via ancora. Ce ne parla nel suo servizio Pascal Kuypers. Dunque, Judith, spesso l'elemento chiave è la collaborazione tra le grandi società affermate e le società di start-up. Le grandi società non sanno dove trovare imprenditori con idee innovative. D'altra parte, le start-up non sempre sanno come trovare i finanziamenti e l'esperienza. Tutto ciò provoca una perdita di opportunità che è deplorevole soprattutto in un settore alimentare che si trova ad affrontare delle grosse sfide a livello globale. Il mondo ha bisogno di una filiera alimentare di prodotti sostenibili che sia in grado di affrontare il futuro. Gli alimenti devono essere sani, sicuri e accessibili per una popolazione composta sempre di più da persone che abitano in città. Per raggiungere questo obiettivo non basta più la consueta maniera di svolgere l'attività, ma occorre una maggiore componente di ricerca e sviluppo da parte delle società. Ecco quindi che le nuove e sorprendenti idee delle start-up innovative possono rivelarsi molto utili. Starbuzz è un acceleratore per le start-up del commercio digitale e della logistica in Germania, come ama definirsi essa stessa. Rappresenta un elemento di collegamento tra le start-up e le altre società. Recentemente Aldi e Lidl hanno deciso di aggregarsi. In tema di innovazione di prodotto ci sono anche diverse iniziative interessanti che mettono in connessione le start-up con le altre società, come Start-up Fest Europe e la sfida globale Get in the Ring. Entrambe riguardano vari settori, compreso l'alimentare. Lo European Food Nexus Start-up Challenge, d'altra parte, è focalizzato interamente sulle start-up del settore agroalimentare. Organizzata da Food Nexus, un consorzio europeo di società ed istituti di ricerca nel settore alimentare, questa sfida individua dieci aree fondamentali di innovazione. Che si tratti di sviluppare nuovi ingredienti, nuovi prodotti o nuovi processi, tutte le start-up hanno bisogno di partner aziendali o di investitori per ampliare le proprie dimensioni. D'altra parte, le start-up forniscono quell'entusiasmo innovativo di cui si avverte un bisogno disperato. Trasformare le idee in realtà, sostenere la crescita delle start-up e sviluppare un solido modello di business. Sembra bello e sinergico, ma occorre tenere presente un avvertimento. Le start-up devono proteggere la loro proprietà intellettuale ed evitare di diventare troppo dipendenti. Le grandi società, a loro volta, devono sapere che per arrivare al successo, le start-up hanno bisogno del loro spazio vitale ed indipendenza. Entrambe le organizzazioni stanno percorrendo nuove strade, ma occorre vedere se saranno fermate da buche ed ossi. A voi! Grazie, Pascal. E ora torniamo da Veronica Carvaio per gli eventi commerciali in programma nel prossimo mese. Non ci sono grandi eventi commerciali in Europa nel mese di dicembre, ma Pelema consponsorizza la Shanghai Private Label Fair da Cina il 28 al 30 novembre. La feria presenterà più di 600 stand dai 400 aziende, tra cui 50 provenienti dall'Europa sotto il banner World of Private Label. E dentro a voi? Grazie, Veronica. E da parte mia e di Edgar, Pascale dello Chef Barry, grazie per averci seguito. Arrivederci al prossimo mese. Grazie a tutti. 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 Grazie.